famosissimo pezzo take the train di Castellina Pasi Castellina Pasi e di Occhetto lo si sai cosa io avrei fatto adesso? scherzo noi siamo tre amici bellissimo Lupin 3 eh magari è bellissimo Lupin 3 no no Castellina Pasi è bellissimo per dire il pezzo che ho visto questo che fai che non ha detto vai vai sta dove sei? dai 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.